carissime amiche e carissimi amici dopo le sane risate che vi sarete sicuramente fatti con l'ultimo mio video del delirium milanesum con i miei personaggi il buzzurro nero azzurro il maestro zan che gli volete un bene veramente come se fosse una persona vera e questo è una risposta per me importantissima del fatto di quanto fare dei personaggi poi in maniera teatrale fondamentalmente voi sapete che io ho fatto scuola di teatro quando vivevo a milano mi dà ancora maggior orgoglio nel poter condividere con voi questo spazio un po più leggero uno spazio dove ci si ride del calcio ricordandosi che è sempre la cosa più importante tra le meno importanti nonostante poi ci sono momenti anche di tensioni momenti di scaramucce e tutto quanto però l'importante poi saper ritornare alla realtà delle cose quindi farci una risata quindi vi ringrazio per aver apprezzato per l'ennesima volta poi voglio ringraziare ovviamente tutti i nuovi iscritti abbiamo superato la soglia dei 13 e si 13 mila ciao da un pezzo 16 mila 900 stiamo puntando i 17 mila iscritti al canale veramente vi ringrazio di cuore per per far parte di questa meravigliosa tribù e questa sera per addolcire la pillola visto che oggi ha parlato fonseca ma già vi ho detto nel video di stamattina che l'analisi della con l'analisi consueta che faccio ogni volta che c'è una conferenza stampa del mister così come è stato in questi anni con pioli anche con fonseca lo stesso la farò domani nel pre partita mila lecce perché faremo un trade union tra quelle parole aspettando poi le formazioni ufficiali di mila lecce e poi vabbè ognuno poi si vede la sua partita e poi ci sarà la live reaction post partita come ogni volta nel bene e nel male speriamo nel bene anche perché mi è sembrato di sentire che murata e ocafor non stanno al cento per cento e vedremo vedremo comunque fiducia nei nostri ragazzi ma prima di passare a questa bellissima iniziativa da parte del milan che sarà in programma proprio domani a san siro e che vedo di cui nessuno ne ha ne ha parlato perché sempre si cerca la notizia sensazionalista ci si cerca la notizia uff bomba a volte bisogna anzi mi va di dire come nel discorso fatto in precedenza sulla parte più teatrale del calcio bisogna anche aprire delle finestre sulla parte sociale che la funzione che è il calcio come vi ho detto oggi il milan che adesso apre a una collaborazione addirittura con lo stato del congo in africa cioè non è una multinazionale un'azienda cioè con uno stato intero cioè vi rendete conto la grandezza ecco c'è un'altra bellissima iniziativa di cui adesso parleremo però voglio ricordare innanzitutto perché io sono tornato tardi da lavoro sono arrivato a casa le otto in un modo di vedere il milan futuro finalmente è arrivata la prima vittoria dei ragazzi 2 a 1 contro la spalla con un milan che è passato tra l'altro in vantaggio un a zero con il nuovo arrivato tra l'altro il giovane ozzic che arrivava dal bologna al minuto 67 poi doccia fredda l'ottantunesimo con un pareggio da parte del della spalla e alla fine ciacca traore al minuto 85 da subentrato di testa mette la sua zampata vincente per la prima vittoria ufficiale in serie c del nostro milan futuro meno male poi all'esordio nel campo che dovrebbe essere il nostro milan futuro assolbiate arno quindi grande vittoria tre punti fondamentali avanti così ragazzi giusto oggi vi dicevo non criticate contro tutti i criticoni di bonera ho detto aspettate date del tempo perché sono ragazzi che arrivano la maggior parte dalla primavera e il campionato di serie c non è all'acqua di rose e infatti la risposta è arrivata subito sembra come a volte quando parlo è come se veramente c'è un'energia una vibrazione che poi porta sempre delle risposte immediate a quello che dico quindi va bene così allora prima di arrivare a questa bellissima iniziativa volevo un attimino commentare un articolo che è uscito su milan press da parte di samuele vinci da troppo brutto per essere vero troppo bello per essere vero e adesso attitudine equilibrio continuità voi sapete che a me piacciono gli editoriali e i commenti che vengono fatti in questa pagina perché sono sempre spunto per poter poi ragionare in maniera anche intelligente su ciò che riguarda il nostro milan e quindi cosa dice il nostro carissimo samuele vinci dice da 0 a 100 ancora una volta quanto possono cambiare le situazioni la percezione delle cose in così poco tempo il calcio moderno è questo soprattutto quello legato ai leoni da tastiera che si sono evoluti in quelli del touchscreen e me lo dici mi verrebbe in spagnolo me lo disse me lo quentas che rido samuele la voglia di leoni di tastiera quanti non ho dovuti bloccare fino adesso c'è forse qualche migliaio da quando è iniziato il canale che ho una cosa è dire la propria opinione una cosa lo sfottò e una cosa è insultare e ovviamente poi con me non è che trovate uno che le cose se le tiene ma poi ve le rimanda indietro perché la merda di ognuno che se la gestisca da sé io non sono il bidone della spazzatura per la merda di certi personaggi e quindi gliela rimando indietro e è successo anche un episodio quest'estate che sono andato anche giù abbastanza pesante però da allora ho deciso che invece di arrivare fino a questo punto perché non va neanche con me ho deciso semplicemente di appena arrivano questi commenti e tutto quanto bannarli senza che possano più scrivere nel canale molto semplice quindi il milan di paolo fonseca è passato da una situazione tragica sportivamente parlando all'olimpo il tutto scatolito da una prestazione perfetta che ha portato alla vittoria nel derby contro l'inter situazione che non accadeva da due anni pieni ricordiamoci che quell'ultima volta fu contro l'inter il settembre di due anni fa e vincemmo 3 a 2 dove si era girato girù e per l'ennesima volta piaccio meno il calcio vive di attimo e soprattutto risultati si può andare in alto molto rapidamente per poi crollare alla stessa velocità a fonseca il suo milan è successo esattamente l'opposto prima della sfida con l'inter qualcosa non funzionava e anche diciamo sono stati tanti come te non dico te nello specifico caro samuele vinci ma tanti scribacchini tanti youtuber tanti giornalisti che hanno messo il dito nella piaga o il grissino nel tonno stile tonno riomare e il 4 a 0 al venezia non poteva comprensibilmente essere realmente indicativo detto fatto perché alla luce poi della sconfitta contro liverpool a san siro sono tornati i fantasmi le apprezzioni verso una squadra scarica fiacca spogliata dalla voglia di successo milan troppo brutto per essere vero che quattro notti dopo si trasforma in un milan troppo bello per essere vero quindi è troppo bello o è troppo brutto per essere vero tu che dici fammi sapere in basso perché la squadra è scesa in campo con un altro atteggiamento con quella voglia che sembrava quasi surreale se il paragone si lega alle prestazioni del recente passato beh diciamo che lo aspettavamo tutti al varco perché se il milan non avesse fatto una prova del genere questa settimana non eravamo così come i passerottini che svulazzano da da un da un alberello all'altro tutti felici tutti felici e contenti come se fossimo lì in un giardino zen è il prossimo vero passo forse ancora più difficile arriva proprio adesso il milan non dovrà essere brutto come primo meraviglioso come domenica basterebbe una giusta via di mezzo che potremmo sintetizzare con due parole equilibrio e continuità beh ma questo è quello che si auspica qualunque tifoso perché fondamentalmente se noi dobbiamo vivere una stagione come anche nelle ultime si viveva un luna park un saliscendi tipo montagne russe anche no perché sapete poi l'età avanza paolo fonseca e i suoi giocatori avranno l'ardo compito di ripartire dalla vittoria della stracittadina o meglio partire perché questo può e deve essere considerato come un punto di partenza assolutamente domani sarà una partita non dico decisiva ma importantissima anche perché poi la prossima settimana dobbiamo cercare di anche quagliare qualcosa in champions league visto che giocheremo all'everkusen e non è proprio un campetto qualunque anzi tutt'altro per non manificare ciò che è stato fatto domenica e poi andremo a firenze quindi cioè ci sarà un altro trittico di quelli belli esagerati prima dell'altra pausa o meglio perché proprio mi vengono in mente le cose a random no cioè la fiorentina l'ultima partita con la lazio passa in svantaggio e ti ribalta la partita 2 a 1 quindi se loro prendono entusiasmo e giocando anche in casa al franchi non sarà proprio una partita facilissima quindi saranno altre tre partite dopo il trittico venezia liverpool inter c'è quest'altro lecce l'everkusen e fiorentina che occhio eh quindi dobbiamo stare molto concentrati quindi non vanifichiamo questa grande prestazione con che sistema di gioco poco importa la differenza ancora una volta l'hanno fatta la faranno atteggiamento e abnegazione l'attitudine vince sui moduli sempre adesso palla a fonseca ai suoi giocatori dipende tutto da loro dipende tutto dal milan assolutamente però già domani per esempio sembra che morata e ocafor potrebbero darse debaca come si dice qua in spagna ossia potrebbero essere assenti per malattia quindi chiamiamo il medico foglio medico per quanti giorni di malattia e poi passiamo alla notizia che a me veramente piace e spero che siate arrivati a questo minuto 10 so che i miei video non sono tic toccheri non mi piace fare video corti non ci riesco non ho il dono della sintesi a me piace esprimere i concetti in maniera ampia anche con colore con passione in quello che io metto e questa bellissima iniziativa che vedrà domani che si vedrà domani a San il club fondazione milan e l'ente nazionale sordi e dunque un percorso il club rossonero che sappiamo benissimo che è all'avanguardia in tutto e per tutto da un punto di vista sociale un percorso condiviso da ambo le parti quindi tanto da fondazione milan dalla c milan dall'ente nazionale sordi e per abbattere appunto queste barriere barriere architettoniche che chi e ci sono diversi di voi che sono seduti su una carrozzina piuttosto che hanno altri tipi di situazioni di diverse abilità mi va di dire sanno cosa vuol dire andare per un marciapiede una strada e trovare un fosso trovare una fermata dell'autobus dove non c'è la pedana per poter salire piuttosto che entrare in una struttura e non esserci neanche diciamo uno spazio riservato per i bagni cioè purtroppo ancora esistono queste realtà per quanto ormai poco a poco dovrebbero andare scemando e quindi il secondo la world health organization praticamente l'organizzazione mondiale della salute quasi il 20 per cento della popolazione globale convive con una qualche forma di perdita di udito e per celebrare questa ricorrenza nelle scorse settimane i calciatori proprio della prima squadra maschile del milano hanno accolto presso milanello alcuni giovani tifosi dell'ente nazionale sordi che hanno insegnato loro il rispettivo segno nome si tratta dello speciale segno utilizzato all'interno delle comunità sorde per identificare in modo univoco una persona solitamente collegato a una sua caratteristica fisica qualità o peculiarità ma anche al suo cognome o la sua esultanza preferita e dunque al momento dell'annuncio della formazione ufficiale che domani il nostro gegio darà prima di milan lecce per la prima volta nel calcio italiano saranno gli stessi calciatori rossoneri a eseguire il proprio segno nome sui maxi schermi dello stadio per presentarsi ai tifosi sugli sparti una iniziativa dalla più grande squadra italiana nel mondo non poteva che non venire dal milano tra di loro sarà presente anche una delegazione dell'ente nazionale sordi invitata proprio dal club da fondazione milan ad assistere al match e vivere così un'esperienza unica di divertimento e appunto inclusività prima del fischio d'inizio alcuni rappresentanti tanto di fondazione milan che di ens lombardia appunto questo ente nazionale sordi affiancati da un interprete professionista saranno protagonisti di un'intervista a bordo campo che sarà poi proiettata sui maxi schermi proprio di san siro per condividere coi presenti i valori e le iniziative che da anni contraddistinguono la loro collaborazione ci sono le dichiarazioni da parte di paolo scaroni che dice lavoro svolto in questi anni al fianco di un istituto prestigioso come l'ente nazionale sordi ha dato un contributo sostanziale nel rendere il nostro club sempre più accessibile per tutti i nostri tifosi che sono sempre al cuore di tutte le nostre attività attraverso la realizzazione di soluzioni concrete e iniziative come quella di domani vogliamo continuare a stimolare un cambiamento positivo all'interno del settore calcistico di fada eco renzo corti presidente del consiglio regionale lombardo dell'ente nazionale sordi dicendo siamo felici che anche in questa stagione il pubblico tifoso sordo possa fruire degli eventi e dei contenuti digitali del milan che dimostra ancora una volta di avere un occhio di riguardo per promuovere equità sociale uguaglianza inclusività grazie alla stipula di una nuova convenzione con fondazione milan gli eventi che interessano i numerosi tifosi sordi rossoneri continueranno ad essere accessibili con sottotitolazione e traduzione lis speriamo così di rendere felici i tifosi sordi che da sempre seguono la loro squadra del cuore e tutti i sordi italiani amanti del calcio e dunque il milan il programma il milan per tutti contenitore proprio di iniziative realizzate dal nostro club per garantire maggiore accessibilità possibile ai propri spazi fisici e digitali anche domani avrà vinto la sua la sua partita personale e quindi ringrazio il milan ringrazio la società milan per questa ennesima prova di grande solidarietà di grande umanità e questo vuol dire sport questo vuol dire davvero tifare la più grande squadra che esiste nel pianeta terra che è la c milan che sempre ci sorprende ogni volta anche con queste meravigliose iniziative quindi chiudo come sempre grande applauso alla nostra società e quindi io vi lascio con l'hashtag questa sera milan società milan da applausi davvero società milan da applausi e poi se volete aggiungere il milan per tutti grandi 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 davvero queste sono le cose belle del calcio e bisogna pur dirle perché tanto per spalare merda per spalare sempre negatività ci sono già centinaia di canali che immagino voi già conosciate ma questa è la vera tribù dove c'è vero milanismo la tribù rosso nera e quindi anche tu entra a far parte di questa grande famiglia se i tuoi valori corrispondono con i nostri davveri milanisti davveri sportivi davveri esseri umani un bacio alle amiche un forte abbraccio a tutti gli amici buona serata e vi stavo dicendo e prepariamoci già alla partita di domani ci prepareremo domani dormite sonni sereni e non come quelli di maestro zanna e buzzurro nerazzurro anzi se non l'hai visto vattela a vedere il video che ho fatto prima almeno ti fai due risate prima andare a dormire che fa bene anche alla tua serotonina buonanotte e ci sentiamo domani alla prossima ciao 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 ciao